rivolgendosi ai membri del senato cicerone afferma atres conscripti padri coscritti senatori notum est è noto cesarem rubiconem transisse che cesare ha varcato il rubicone è noto è risaputo sappiamo tutti ora in questo momento che cesare prima di questo momento ha attraversato il rubicone in questo caso l'infinito perfetto indica un'azione anteriore la violazione del confine sacro del pomerium che è avvenuta prima della seduta del senato in cui sta parlando il nostro cicerone publio il futuro publio cornelio scipione africano è contento per il fratello lucio sciebam sapevo dice fratrem meum che mio fratello laudatum esse a pedagogo era stato lodato dal pedagogo dal precettore qui l'infinito perfetto esprime sempre un'azione anteriore rispetto a quello della principale sapevo allora che mio fratello era stato lodato prima di allora prima cioè del momento sempre nel passato in cui publio è venuto a conoscenza del fatto proprio per questo abbiamo tradotto l'infinito perfetto con un trapassato prossimo in italiano era stato lodato a a a a a